ci dirigiamo verso laurenceville allora ragazzi finalmente siamo sbarcati negli stati uniti come ha visto nelle immagini ho avuto un viaggio veramente pesante perché praticamente cosa è successo partivo da milano malpensa per andare ad amsterdam solamente che questo volo ha ritardato e ho perso il secondo volo per atlanta ho dovuto attendere una notte ad amsterdam la compagnia aerea fortunatamente mi ha dato sia l'albergo che qualcosa da mangiare alla mattina sono ripartito e sono arrivato ieri nel pomeriggio abbiamo sbrigato tutte le pratiche nolleggiato la macchina siamo arrivati abbiamo fatto un pezzo di strada abbiamo attraversato la città di atlanta dal sud al nord per arrivare a lawrenceville qui dove andremo a visitare la bus pro shop però vi devo anche presentare un grande amico con cui condivido questa avventura hey jesse ciao ragazzi ciao ragazzi siamo andata al woodwork no don't touch this siamo usciti dal walmart mi hanno fermato perché non volevano che facevo i video qualcosa sono riuscito a fare adesso andiamo a farci colazione ma siamo dodanki in donuts it's good ultra buono veramente uno spettacolo it's alabama wow ragazzi non ci posso credere siamo arrivati non vedo l'ora di entrare ma prima facciamo un bel po di foto qua fuori alloggiato gol alloggiato gol alloggiato gol Grazie a tutti Ragazzi spese folli fatte adesso dove si va a Knoxville Grazie a tutti Ciao Bus Pro Shop In realtà non potevamo filmare neanche dentro la Bus Pro Shop perché ovviamente è un posto privato Musica Ciao ragazzi sono le 5 di mattina si parte direzione Hotel Knoxville L'hotel ufficiale dei pro angler di questo Bus Master Classic Andrò lì perché ho un piccolo briefing iniziale Avrò un bus verso la rampa dove calano tutti i pro e salirò con Jacopo Gallelli Oggi è il 13 marzo e mercoledì giorno di prove ufficiali Sarà una giornata pazzesca non vedo l'ora di raccontarvela Ragazzi questa è la barca di Jacopo Io salgo Jack Adesso vado a Edwin Evers Qua c'è Edwin Evers Bobby Lane No ma ti avevo già preso il telefono No ma io salgo Vai Sì Ragazzi è una cosa incredibile È un sogno Gave proof through the night That our flag was still there That our flag was still there Ragazzi, Jacopo sta pescando su una sassaia con reazione, prova anche un po' la finestra con un drop shot così ha preso un paio di smallmouth, non di misura, tanta roba ok ok guarda qui che questo è su misura proprio va capoppa rientro ragazzi ma sta provando con un sacco vediamo che succede qui ci sono una serie di camion come potete vedere per esempio questo è il camion della mercoledì che proprio fa il service se c'è bisogno sul luogo di pesca allora ragazzi questa giornata stupenda finisce qua andremo a mangiare stasera ovviamente qualche porcata domani ci sarà il media dei cosa vuol dire è la giornata dedicata al marketing la pubblicità alle interviste a qualsiasi cosa di questo genere con i professionisti non vedo di andare a mangiare perché oggi ho mangiato veramente poco ciao ragazzi